Sono oltre una decina le auto danneggiate con vernice spray di colore verde o nero da una o più mani nottetempo a Lucrezia di Cartocetro tra cui anche un'auto del comune e quella del responsabile della protezione civile locale. Gli obiettivi dei vandali sono stati scelti in un ampio raggio di strade come hanno potuto appurare i carabinieri di Colli al Metauro che stanno raccogliendo in queste ore le denunce e che ora coordinati dal maresciallo Antonello Pannaccio hanno anche ristretto il lasso di tempo entro il quale lo scempio automobilistico è stato compiuto ovvero dalle 24 alle 4 del mattino. Tutto il centro di Lucrezia di Cartocetro è quindi stato toccato Viale Kennedy, Via della Repubblica e Via Ponte Murello più tutte le straverse che conducono alla nazionale, parcheggi compresi. Insomma un vero e proprio raid vandalico alle spese dei cittadini per danni che ammontano a migliaia e migliaia di euro. Un atto vandalico mirato o una bravata adolescenziale? Uno o più soggetti? Sono questi gli interrogativi a cui stanno cercando di dare risposte i militari dell'arma con le loro indagini che ora raccolte tutte le denunce e circoscritto il campo d'azione passeranno all'esame di eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nel perimetro d'azione di questi vandali senza scrupoli.